Le condizioni di via Oliveri sono disastrose, le buche nell'asfalto sono profonde e gli automobilisti e soprattutto i centauri corrono rischi enormi. Oggi l'ottava commissione consigliare di Acicatena ha effettuato un nuovo sopralluogo alla presenza del sindaco Ascenzio Maesano. Sulla proprietà dell'arteria e dunque sulla competenza ad intervenire è in corso un contenzioso tra diversi enti. Il presidente della commissione Martino Orazio Ferro invoca l'intervento della provincia regionale di Catania. Il nostro deve essere un messaggio che dobbiamo risolvere questo problema. Il problema è quello di momentaneamente rattoppare quella strada perché è stato chiesto alla provincia, il sottoscritto è chiesto alla provincia all'ingegnere Galizia nello specifico, nell'emore che si venga a definire una questione perché i cittadini non possono aspettare che una sede stradale sia definita da una sentenza. Questo è inaccettabile sia da parte nostra come amministratore sia da parte dei cittadini perché la sicurezza stradale viene prima di ogni altra cosa. La sicurezza stradale viene prima che un giudice decida di chi sono le competenze di andare a sistemare una strada. La strada deve essere sistemata e oggi io ringrazio anche il sindaco di Acicatena che è intervenuto e che lui in prima persona si impegnerà sulla questione perché dobbiamo risolvere il problema assieme il comune di Acicatena e il comune di Acereale. Sì non è sede del comune di Acereale dove ricade la sede stradale però noi ci stiamo impegnando lo stesso perché è una questione di senso civico e di rispetto dei cittadini perché i cittadini devono essere rispettati e poi dopo noi dobbiamo fare la nostra parte. La nostra parte è quella di attenzionare il problema. Il problema noi questa mattina ci stiamo attendo la faccia perché quella strada si deve sistemare e tutti quanti assieme dobbiamo augurarci che quantomeno la provincia come ente sovraccomunale faccia momentaneamente alla luce della sendenza, chiamiamo sendenza, faccia rattoppare questa strada prenda la multiservizio e vada a rattoppare la strada e questo sarebbe un regalo gradito a tutti i cittadini di un buon Natale.